il figlio maupassant dopo aver giurato e spergiurato che non si sarebbe mai sposato jacques bovier cambiò idea all'improvviso successe inaspettatamente durante i bagni di mare in estate mentre se ne stava steso sulla sabbia occupatissimo osservare le ragazze che uscivano dall'acqua fu colpito una bella mattina dalla grazia e dal fascino d'un piedino femminile sollevò più in alto lo sguardo e tutta la personcina che vide lo attrasse di là e comunque non si vedevano che le caviglie e la testolina che usciva da un asciugamano di spugna e da un accappatoio di flanella bianca chiuso con estrema cura la gente diceva che lui era un giovanotto molto sensuale uno a cui piaceva godersi la vita da principio dunque fu attirato soltanto dalla grazia di quelle forme poi fu conquistato dal fascino di un dolce spirito di bambina semplice e fresco fresco come le sue guance e le sue labbra presentato alla famiglia e gli piacque in poco tempo fu pazzo d'amore quando scorgeva verte l'annis di lontano sulla spiaggia di sabbia gialla fremeva fino alla radice dei capelli vicino a lei diventava muto incapace di aprir bocca e persino di pensare con una specie di tumulto nel cuore di ronzio nell'orecchio di ansia nello spirito era questo l'amore non lo sapeva non ci capiva nulla ma in ogni modo rimaneva dell'opinione di fare di quella fanciulla sua moglie i genitori di lei esitarono a lungo trattenuti dalla cattiva fama del giovane egli aveva un amante un'antica amante un forte legame di vecchia data una di quelle catene che si credono spezzate e che invece sempre trattengono inoltre egli amava per periodi più o meno lunghi tutte le donne che gli passavano a portata delle labbra si adattò a non riveder più neanche una sola volta la donna con la quale aveva a lungo vissuto un amico regolò la pensione di questa donna assicurandole così l'esistenza jacques pagò ma non volle sentir parlare di lei pretendendo ormai di ignorarne perfino il nome e lei gli scrisse alcune lettere senza che jacques le aprisse ogni settimana egli riconosceva la goffa scrittura dell'abbandonata e ogni settimana una collera sempre più grande lo prendeva contro di lei e strappava irosamente la busta il foglio senza aprire senza leggere una riga una sola riga immaginando le querele e i lamenti della lettera poiché i genitori di berthe non credevano alla sua perseveranza fu messo alla prova per tutto l'inverno e soltanto a primavera accolsero la sua domanda il matrimonio ebbe luogo a parigi nei primi giorni di maggio era deciso che non avrebbe fatto il classico viaggio di nozze dopo un piccolo ballo una festicciola che non si prolungò di un minuto oltre le undici per non protrarre all'infinito le fatiche di quella lunga giornata di cerimonie i giovani sposi dovevano passare la loro prima notte nuziale nella casa di lei per poi partire soli l'indomani mattina per la spiaggia cara ai loro cuori dove si erano conosciuti ed amati la notte era sopraggiunta nella gran sala si ballava gli sposi si erano ritirati in una piccola alcova giapponese addobbata di sete vistose appena rischiarata quella sera dai raggi attenuati di una grande lampada a colori appesa al soffitto come un uovo enorme la finestra accostata lasciava entrare talvolta sbuffi freschi carezze di aria che passava sui visi perché la sera era tiepida e calma piena di odori di primavera non parlavano si tenevano le mani premendosele a volte con tutta la loro forza ella con gli occhi incantati restava un po disorientata da quel gran cambiamento avvenuto nella sua vita ma sorridente commossa prossima a piangere credendo tutto il mondo cambiato inquieta senza sapere di che con tutto il corpo e l'anima invasi da un indefinibile e delizioso languore egli la guardava ostinatamente sorridendo di un sorriso fisso voleva parlare e non trovava niente da dire e rimaneva lì mettendo tutto il suo ardore nella pressione della mano di tanto in tanto mormorava berthe e ogni volta ella alzava gli occhi su di lui con uno sguardo tenero e dolce e si contemplavano un momento poi gli occhi di lei penetrati e affascinati da quelli di lui si riabbassavano non trovavano nessun pensiero da scambiarsi erano stati lasciati soli ma a volte una coppia che ballava gettava loro di sfuggita a uno sguardo furtivo come fosse stata testimone discreta e confidente d'un mistero una porta laterale si aprì entrò a un domestico tenendo su un vassoio una lettera urgente che un fattorino aveva allora allora portata jacques prese la lettera con un tremito colto da una paura vaga e improvvisa la paura misteriosa delle disgrazie inattese guardò a lungo la busta di cui non riconosceva la scrittura non osava aprirla preso dal desiderio folle di non leggere di non sapere di mettersela in tasca e dirsi a domani domani sarò lontano poco importerà ma in un angolo una grande parola sottolineata urgentissima lo colpì lo spaventò e gli domandò permetti cara lascerò la busta chiusa e lesse lesse la lettera impallidando paurosamente scorrendola di colpo e lentamente compitandola quando jacques rialzò il capo aveva il viso sconvolto balbettò mia cara piccola si tratta si tratta del mio migliore amico al quale è capitata una grande una immensa sciagura che gli ha bisogno di me subito subito per una faccenda di vita o di morte mi permetti di assentarmi venti minuti torno subito e la balbetta trepida spaventata va caro non essendo ancora abbastanza a sua moglie per osare di interrogarlo per esigere di sapere e jacques scomparve berthe rimase sola ascoltando il ritmo delle danze che si svolgevano nella sala vicina aveva preso un cappello il primo che gli era capitato un soprabito qualunque ed isceso di corsa alla scala come fu sulla strada si fermò ancora sotto un lampione a gas per rilezzere la lettera signore la signora ravè a quanto pare vostra antica amante si è sgravata ad un bimbo che l'afferma essere vostro la madre sta per morire e implora la vostra visita mi prendo la libertà di iscrivervi e di chiedervi se potete accordare un ultimo colloquio a questa donna che appare assai infelice e degna di pietà vostro servitore dottor bonar quando egli penetrò nella camera della donna e l'agonizzava non lo riconobbe subito il medico e due infermiere ravegliavano e in terra c'erano dappertutto secchi pieni di ghiaccio e biancheria insanguinata l'acqua rovesciata inondava il pavimento due candele ardevano su di un mobile dietro il letto una piccola culla di vimini dietro il letto in una piccola culla di vimini il neonato gridava e ad ogni suo vagito la madre angosciata tentava un movimento rabbrividendo sotto gli impacchi gelati e la perdeva sangue perdeva sangue colpita a morte uccisa da quella nascita tutta la sua vita in tal modo fluiva e nonostante il ghiaccio nonostante le cure l'invincibile emorragia continuava avvicinava irrimediabilmente la sua ultima ora riconobbe jac e volle alzare le braccia non poté tanto era stremata ma sulle guance livide due lacrime presero a correre egli si gettò in ginocchio accanto al letto afferrò una mano che pendeva e la baciò freneticamente poi poi a poco a poco s'avvicinò al viso emaciato che al suo contatto trasalì una delle infermiere in piedi con una candela in mano lo rischiarava e il dottore discosto rimirava dal fondo della camera con voce lontana ansimando e l'allora disse to per morire amore mio promettimi di rimanere fino alla fine oh non mi abbandonare non mi lasciare in questi ultimi momenti jac abbassò la fronte fra i capelli di lei singhiozzando mormorò calmati rimarrò la donna ristette qualche minuto prima di poter parlare ancora tanto ero oppressa e disfatta poi riprese è tuo il piccino te lo giuro dinanzi a dio te lo giuro sull'anima mia te lo giuro al momento di morire non ho mai amato altri che te promettimi di non abbandonarlo egli provò ancora a prendere fra le braccia quel miserevole corpo devastato svuotato di sangue oppresso dai rimorsi e dall'angoscia abbalbettò te lo giuro lo alleverò e lo amerò non mi abbandonerà mai e la tentò allora di abbracciare jac impotente a sollevare la testa spossata tese le bianche labbra in un bacio egli avvicinò la sua bocca per cogliere quella dolorosa e suppliche tenerezza un po' calmata mormorò a bassa voce prendilo che io veda se gli vuoi bene e jac andò a cercare il bambino lo posò dolcemente sul letto tra loro e la creaturina cessò di piangere e la morborò non si agita più e anche jac non si mosse più rimase lì tenendo la mano calda di lei scossa da fremiti d'agonia come aveva tenuto poco prima un'altra mano scossa da fremiti d'amore e quando in quando guardava l'ora con un'occhiata furtiva spiando la lancetta che segnava la mezzanotte poi il tocco e poi le due il dottore si era ritirato le due infermiere dopo essersi aggirate per un po' con passo leggero per la camera ora sonnecchiavano sulla seggiola il piccino dormiva e la madre con gli occhi chiusi pareva anche il riposare a un tratto quando la luce scialba del giorno filtrò dalle tende della finestra e la tese le braccia con un movimento così improvviso e violento che manco poco non facesse cadere il piccino per terra una specie di rantolo le uscì dalla gola poi ristette supina immobile morta e due infermiere precipitato si dichiararono è finita jac che guardò un'ultima volta quella donna che aveva amato poi volse uno sguardo alla pendola che segnava le quattro e fuggì dimenticando il soprabito in abito nero col piccino fra le braccia dopo che gliel'aveva lasciata sola la sua giovane sposa l'aveva atteso abbastanza calma dapprima nella piccola alcova giapponese poi non vedendolo ricomparire era tornata nella sala con un'aria indifferente e tranquilla ma orribilmente inquieta sua madre scorgendola sola aveva chiesto dov'è tuo marito e l'aveva risposto in camera sua ora verrà tilia un'ora poiché tutti le chiedevano di lui disse della lettera dell'espressione sconvolta di jac e i suoi timori di una disgrazia aspettarono ancora gli invitati se ne andarono rimasero soltanto i parenti più prossimi a mezzanotte la sposa venne fatta coricare appariva scossa da singhiozzi sua madre e due zie sedute attorno al letto la ascoltavano piangere mute e desolate il padre si era recato dal commissario di polizia per cercare di avere informazioni alle cinque un rumore leggero fu avvertito nel corridoio una porta si aprì e si soppiuse dolcemente poi all'improvviso un piccolo grido simile a un miagolio si propagò per la casa silenziosa tutte le donne furono di scatto in piedi e Berte per prima si slanciò nonostante la madre e le zie la trattenessero avvolta in una veste da notte in piedi in mezzo alla camera l'ivido ansimante teneva un bambino fra le braccia le quattro donne lo guardavano spaurite ma Berte divenuta a un tratto audace il cuore stretto dall'angoscia corse a lui che c'è di che c'è egli aveva l'aria di un pazzo rispose con voce rotta c'è c'è che ho un bambino e la madre è morta orora e presentò sorreggendolo con le mani inesperte il marmocchio che urlava Berte senza dire una parola prese il piccino e lo strinse al petto poi rialzando sul marito gli occhi pieni di lacrime la madre è morta hai detto e gli rispose sì fra le mie braccia avevo rotto ogni legame fin dall'estate io non sapevo niente il dottore mi ha fatto chiamare Berte mormolò ebbene lo alleveremo noi questo piccino non sapevo niente